Allora, un'altra curva che mi interessa è questa qui. Allora, io prendo una circonferenza di raggio R. Qua, supponete che qua ci sia il tappino, il tappino della gara. Cioè, metto un punto, lo metto a questo punto. Poi faccio rotolare la circonferenza. Questo lato è R. Ovviamente, se la rotola senza strisciare, la circonferenza si ritroverà nella stessa posizione iniziale dopo un giro completo. Che è lungo 2πr. Nel frattempo, vado a vedere il modo del tappino. Vabbè. Diciamo che qua, la mano è detto così, quindi diciamo che 2πr era qua. A occhio mi sembra un po' curto, ma comunque. Ok? Il tappino. Sì, perché guarda l'altro. Vedremo. Qua. Partirà e arriverà con un'agenda verticale. Allora, io voglio sapere il modo, diciamo, l'equazione della curva, l'equazione parametrica della curva. E voglio anche, magari, calcolarne la lunghezza. Allora, vediamo un po'. Per capire bene l'equazione parametrica della curva, io faccio la circonferenza un po' più grande. E la faccio spostata di poco molto. Allora, cosa chiamo t? Chiamo t questo angolo qui, un radianco. Ok? È chiaro che, siccome c'è un rotolamento senza strisciamento, questa lunghezza qui e questa lunghezza di quest'arco qui sono uguali. Ma, quanto è lungo questo arco di circonferenza? Questo arco di circonferenza è lungo RT, se questo è espresso il radianco. Se faccio il proporzionale al, diciamo, se fosse t uguale a 2 pi greco, sarebbe 2 pi greco a R. T uguale a T. Ok. Allora, chi è la posizione X di T? Questo è, questo punto ha due coordinate. Questa è la X di T e questa è la Y di T. Allora, la X di T è uguale a RT meno questo. Ma quello là è R per il coseno. Invece, la Y... Scusate, meno R... Meno questo. Questo è R per il se. Quindi, la Y di T è uguale a R, tutto questo, meno questo. Quindi, R per 1 meno coseno. Allora, andiamo a vedere se funziona. Se sto in 0, mi viene 0, 0. E funziona. Se sto a pi greco, T uguale a pi greco, il punto sarà questo qua. Perché dopo il pi greco, il percorso è pi greco a R, quindi il punto esattamente dall'altra parte. Diciamo, questa altezza qua è 2R. Allora, vedete che viene... Pi uguale a pi greco, se il pi greco fa 0, viene pi greco a R. 1 meno meno 1 fa 2, è 2R. E così via. Quindi la parametrizzazione è effettivamente questa qui. Ora, uno potrebbe dire... Ma sai, esplicitiamo una... Si può pure fare. Innanzitutto, chi è facile esplicitare? Questa non ci pensate proprio. Perché per esplicitare, o devo trovare una relazione tra X e Y direttamente, oppure devo invertire e trovare la T da una parte e sostituire la l'altra. La cosa più semplice è trovare la T da sotto. Perché qua, diciamo, divido per R, diciamo, porto uno di là, uno di qua, mi viene coseno, devo fare l'alco coseno, poi sostituire sopra. Però capite bene che viene un macetto. Viene abbastanza un macetto. Quindi, sarà poi necessario ricavarsi la Y. Il sostegno, prima, l'abbiamo descritto. Andiamo a vedere, per esempio, d'φ di t. Quanto fa? Allora, d'φ di t fa R, lo metto in evidenza, per 1 meno coseno di t. E poi qua mi viene più seno di t. Allora, guardate che, per esempio, nel punto 0, viene R per 1 meno coseno di t. Viene 0, 0. È ovvio che venga 0, 0. Ma, attenzione, perché deve venire 0, 0? Che, addirittura, questa cuba qui, se la andiamo a fare, è C1. Cioè, chiaro, con le pulsioni soppuntive. Lì, addirittura, non passiamo un punto angoloso, passiamo una cuspide. E quindi, a maggior ragione, diciamo, la velocità, in quell'istante, no, in quell'istante, lo dice pure il professore di fisica, in quell'istante in cui il tappino, cioè il punto di contatto con il terreno, è fermo. Per un'istante. Però, supponete che t sia molto piccolo. Allora, diciamo, se t è molto piccolo, seno di t è circa t. 1 meno coseno di t è circa t quadro mezzi. Quindi, se t è molto minore di 1. E allora che vuol dire? Vuol dire che, diciamo, la componente x è infinitesima rispetto a questa. Quindi, praticamente, la componente della tangente è verticale, nel punto 0. Se ne va a fare il limite, il vettore definitivo è nullo, ma se andiamo a fare la tangente a questo profilo, la tangente è verticale. E, infatti, viene meno, diciamo, la derivata viene meno di x rispetto a x, viene meno infinito a sinistra e più infinito. Eh? Anche il colpi greco? Certamente. Sarà la stessa cosa. Qui ci arriva con tangente verticale. Se andiamo a vedere in pi greco, in pi greco, scusate, qua mi viene 2, 0. Ok? Giusto, perché questo, in questo momento, sta andando alla massima di velocità. Ok. Allora, rimane da calcolare la lunghezza. Com'è definita la lunghezza? Allora, dobbiamo fare integrare tra 0 e 2 pi greco, la r stava in evidenza e rimane in evidenza, di radice di 1 meno coseno di t al quadrato più 6 quadri in dettile, uguale a r integrata tra 0 e 2 pi greco della radice 1 più proseguato e proseguato fa 2 e viene meno 2 cos quadro di t in dettile. Allora, in 2 r radica 2 2 coseno di t si toglie e si toglie e è integrata a 0 e 2 pi greco della radice di 1 meno coseno di t allora 1 meno coseno di t coseno di t io la posso scrivere come cosquadro di t mezzi meno senquadro di t mezzi quando vado a fare la differenza mi viene 2 quindi viene r radica 2 integrata 0 e 2 pi greco della radice di 2 senquadro di t mezzi di t uguale il radica 2 lo porto fuori insieme all'altro radica 2 e mi fa 2r qua mi viene t mezzi lo diamo y quindi viene integrata 0 e y della radice di senquadro y poi d t mezzi uguale d y quindi d t uguale 2 d y ma adesso avete 4r la radice di senquadro tra 0 e pi greco fa il seno è positivo fa seno l'integrale di seno tra 0 e pi greco fa 2 e quindi 4 pi greco per 2 4r per 2 viene 8r quindi questa curva si chiama cicloide quindi la lunghezza della cicloide è 8 volte la lunghezza del raggio ora questo qua si fa ma se io volessi controllare controllare secondo punto come si può fare ma è abbastanza semplice un modo questa che è non è una poligonale sono solo 2r allora io so che la quanto è lungo questo questo è pi greco e questo è 2r quindi devo fare la radice quadrata è f la radice quadrata di pi greco 4 più 4 per 2 e questo deve essere minore di 8r allora qua ci abbiamo che significa che questa radice deve essere minore di 4 infatti questa è la radice di quasi 10 più 4 più o meno siamo a parto di 14 meno di 4 di poco infatti la lunghezza di questo di questa roba è poco minore diciamo il percentuale della cicloide se voglio essere sicuro di aver percorso di più per esempio posso fare così perché questa è una figura commessa allora se faccio la poligonale da fuori è più lunga non sempre se prendo quello fatto così questa è più corta ma essendo commessa e quindi in quel caso avremmo pi greco più 2 pi greco più 2 deve essere maggiore di 4 infatti pi greco più 2 è 5 qualcosa che avre percorro una lunghezza maggiore di 4r ok quindi questo è un modo di diciamo in questo caso però il conto si poteva fare in maniera precisa o questa curva è nota per essere stata studiata da Galileo il quale disse che l'area allora non c'era il calcolo integrale almeno disse che quello che gli interessava era pure l'area compresa dalla cicloide ecco quest'area qui non è per nulla facile da calcolare perché anche se diciamo con quello che sappiamo finora per qual motivo anche se riuscite a esplicitare la y innanzitutto riuscite a esplicitare la x rispetto alla y e quindi dovete integrare la x tra 0 2 però anche se è esplicitata l'integrale non risulta per nulla banale da fare ok in verità tra un po' diciamo credo già la settimana prossima faremo delle formule che le formule di gausscreen che ci consentiranno di ricondurre un integrale cioè l'integrale di 1 su t all'integrale di una funzione sulla frontiera di t l'integrale di una funzione sulla frontiera di t sarà l'integrale lungo una curva cioè lungo un qualunque vediamo un qualunque percorso regolare a tratti che percorre la frontiera della curva allora a questo punto il calcolo di quell'area diventerà facile e quell'area sarà tre volte l'area del cerchio che generava la cittura sarà tre pi greco e re 4 ok la curiosità storica è che Galileo si sbagliò disse che ebbe l'intuizione che era uguale a tre volte l'area del cerchio dice ma non è proprio uguale sebbene la differenza non sia molta che faceva prendeva un po' di fogli quello che aveva di più omogeneo è possibile tagliare e mettere sulla bilancia pesava o faceva altri ragionamenti non lo sappiamo diciamo quello che sappiamo con certezza è che diciamo la valutazione fu fu errata invece col calcolo integrale potremo dimostrare che quell'area è tre volte l'area del cerchio che la genera si può fare vediamo innanzitutto allora facciamo un altro perché volevo fare un altro esercizio però quello là ci vuole una mezz'ora e la facciamo la prossima volta cioè l'epicicloide diciamo se io faccio rotolare una circonferenza su un'altra circonferenza ci troviamo diciamo però diciamo anche questo probabilmente ci conviene aspettare forma di caos green così oltre alla diciamo lunghezza della curva che si ottiene possiamo anche diciamo ottenere l'area della figura diciamo racchiusa dalla curva ok invece adesso andiamo a vedere altre curve un po' più diciamo tranquille una curva molto anche per capire un po' come sono fatti alcuni sostegni come andiamo a meno un altro paio ok allora una curva è semplice 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 questa qui x questa sta in r3 quindi phi di t ha tre coordinate x di t uguale coseno di t y di t uguale seno di t z di t uguale per esempio diciamo che t varia tra 0 e 6 t questa qui è un'elica perché stiamo facendo altro che nella x e nella y man mano che giriamo qua abbiamo fatto 2g 3g ok può rappresentare una filettatura di una vittia per esempio poi ci sono le viti che diciamo si stringono verso la punta come si potrebbe fare poi si può facilmente modificare questa potrebbe per esempio fare se io faccio t t cos t t sentì allora cosa ottengo ottengo che mano mano che sale il raggio questa è t cos t t sentì t un aspetto di gallica che si va avalgando mano mano che sale allora questa qua se voglio fare la lunghezza di questa se la chiamo fili t allora defi di t questo è facile che viene meno meno seno di t coseno di t 1 e la norma di defi di t uguale a radical 2 quindi la lunghezza è radical 2 per se p se avessi fatto tre giri sul piano x se invece la voglio fare qua allora defi di t è uguale a coseno di t meno t seno di t poi ho seno di t più t coseno di t e poi ho quindi adesso devo fare la norma di defi di t uguale la radice di 2 cos quadro più se quadro più 1 fa 2 poi i doppi prodotti qua e qua se ne vanno e poi mi viene più t e questo qua si fa questo qua si fa dovete fare prima ricondurre la radice di 1 più t quadro facendo la sostituzione che t uguale a radical 2 per y allora viene radical 2 che mette in evidenza 1 più y quadro e poi dovete fare la sostituzione y uguale sen per polo questa è la sostituzione da fare questo ve lo lascio per esercizio andiamo a fare un'altra un altro esempio andiamo a fare x uguale coseno di t y uguale seno di 2t allora è chiaro che quando stiamo in a 0 più uguale a 0 stiamo nel punto 1 0 che succede mentre t varia tra 0 e p greco mezzi il coseno cioè la x scende fino a 0 la x però prima sale ma poi scende fino a 0 cioè una cosa da fare così e se andate a fare i valori successivi scoprite dovrebbe essere simmetrica quindi vi viene una pulga questa curva qua questo se volete è 2 seno di t cos t vabbè quindi d phi d phi di t è uguale coseno di t 2 coseno di 2p quindi 2 cos quadro meno sin quadro quindi la norma di d phi di t è uguale alla radice quadrata meno sin non la pericola meno sin di t 2 coseno di 2p quindi cos quadro meno sin quadro quando vado a fare il quadro poi viene sin quadro di t più coseno alla quarta di t meno più seno alla quarta di t meno se in qua 2 se in quadro t cos quadro t allora qua potrei dire che viene uguale spieghiamolo un po' viene la radice di coseno alla quarta di t più seno alla quarta di t meno se in quadro t che moltiplica 1 meno 2 cos quadro vabbè allora io posso se volete posso provare a diciamo aggiungere e sottrarre 2 seno alla quarta di t allora qua posso aggiungere 2 seno alla quarta di t e qua posso sottrarre 2 sen quadro di t quindi se ho fatto bene i conti mi viene la radice di 1 perché questo è 2 sen quadro cos quadro quindi qua è più meno 2 cos quadro un'altra volta vediamo un po' quindi mi viene la radice di 1 più sen quadro t vediamo se ho fatto bene 1 meno 4 cos quadro t vediamo se questo è più piccolo di 1 certamente quando il coseno è vicino a 0 questo vabbè insomma si deve vedere si può proseguire comunque questa qua è una della più semplice delle che si ha un punto di vista giù se tu metti coseno di kt e seno di ht con k e h che diciamo ridotti diciamo semplificati al massimo che non fattori comuni vengono delle curve che girano qua in mezzo stanno tutte comprese nel quadrato meno 1 1 al quadrato perché ovviamente essendo seni coseni girano più volte prima di avere un pericolo e questo qua anche qui è un integrale che non si fa diciamo esplicitamente però ci si può lavorare un po' si può prossimo 7 minuti voglio dire solo una cosa questa la pure questa la sviluppiamo la volta seguente però volevo far vedere la costruzione di una curva che ha lunghezza infinita allora una vediamo prima una curva frattata la vediamo lo so facciamo prima questa semplice curva qua x virgola x seno di 1 su x allora per x compreso tra 0 e 1 attenzione che in 0 questa non è definita ma siccome questa è limitata e questa va a 0 la intendiamo 0 0 come è fatta questa curva è un semplice grafico di funzione perché quando ho una curva del tipo x f di x la curva descrive come sostegno il grafico della funzione quindi abbiamo una cosa fatta così ora però se voi se voi prendete xk uguale 1 su y mezzi più k pi seno di 1 su xk viene seno di questo che è meno 1 alla k se vi ricordate seno di pi greco mezzi più k fa 1 ma ogni volta che aggiungo al seno o al coseno un argomento pi greco il valore del seno cambia sempre quindi ne ho aggiunti k ogni meno 1 alla k e allora diciamo fi nel punto x con k vale 1 su pi greco mezzi più k pi greco virgola 1 su diciamo meno 1 alla k su pi greco mezzi più k pi greco cioè abbiamo che di volta in volta questi punti si torna la la x scende a 0 questa x è dell'ordine di 1 su k la y invece cambia segno è dello stesso ordine ma cambia segno ora se ti vai a fare la distanza tra due punti successivi io cosa voglio fare voglio fare una poligona se faccio la distanza da due punti successivi viene sicuramente maggiore di due volte questo questo qua è dell'ordine di 1 ok allora quando ho questa disuguaglianza ripeto questa situazione per diciamo da 1 fino a n allora cosa ottengo una cosa che una poligonale che la cui lunghezza si può minorare con una costante per la somma parziale ennesima della serie argonica quindi se io prendo una poligonale subordinata a s dove s è x1 xn 0 in un ultimo punto lo prendo 0 cioè sono ordinate al contrario quindi sarebbe 0 xn x1 allora l di p di s viene maggiore o uguale di una costante per la somma di 1 su k per k che va da 1 ma noi sappiamo che questa somma è dell'ordine di logaritmo n che sarebbe infinito quindi che vuol dire che la lunghezza di questa curva è infinita questa curva non è c1 non è c1 per quale motivo non ha la derivata è continua ma non è c1 perché non ha la derivata per x uguale se fosse c1 la velocità massima sarebbe finita io non potrei per la lunghezza infinita in un tempo finito x sarebbe t il tempo sarebbe t t varia da 0 ok quindi questo esempio per esempio questo esempio prova che ci sono curve non continue non c1 e quindi basta anche solo continua non basta per dire che la curva abbia lunghezza finita ok ci vuole c1 c1 è sufficiente ma continua non è sufficiente per dire che una curva abbia lunghezza finita naturalmente nel caso di una curva che non è c1 come definiamo la lunghezza come l'estremo superiore della lunghezza delle poligonali cioè quella che abbiamo visto prima come un teorema ci dice che per le curve di classe c1 la lunghezza o è definita in un modo o è definita nell'altro modo è la stessa cosa a quel punto uno si prende diciamo se uno si prende la lunghezza poligonale quello lo posso definire sempre anche se la prende soltanto continua e quindi in quel caso diciamo la lunghezza è definita in questo modo qua va bene